He Named Me Malala è un documentario ovviamente su questa ragazza e include scene di animazione che sono molto adatte al tema e anche degli aspetti della vicenda forse meno noti e visto che ha a che fare con l'istruzione segnalo quello che fanno gli studenti dell'Accademia che riprendono la loro stagione con Melba dal 13 al 19 ovviamente sono cantanti ed è questa voce leggendaria che ripropongono ed è un musical indigeno Rodeo Moon dal 14 al 19 mentre Flourish un bel titolo per uno spettacolo di danza è dal 14 al 21. Un altro film che racconta una storia vera si intitola Suffragette. C'è anche violenza nella realtà di un secolo fa e delle situazioni femminili difficili del secolo scorso tornano in scena a Subiaco solo dall'11 al 14 e il titolo francese originale Les Bonnes di Jean Genet in inglese The Maids. Io non so se in italiano sia tradotto le serve o le domestiche ma appunto queste sono le due protagoniste di una storia anche qui drammatica e violenta. Molto più piacevole senz'altro la voce femminile di Sarah MacLiver che fa parte del concerto vocale con il consort della cattedrale di San Giorgio ed è all'aperto di sera al Fremantle Art Center il 12 e il 13 mentre il 14 sempre a Fremantle concerto di C.W. Stone King che non conosco ma penso sarà piacevole. Il film Night of Cups è ambientato a Hollywood parla di gente che fa film e è suddiviso in capitoli che come il titolo fanno riferimento alle carte dei tarocchi. ci sono attori famosi, è famoso il regista Terence Malick, se conoscete il suo lavoro sapete che è bello da vedere, è un po' come una collezione di cartoline dalla California ma non solo. Sugli schermi ci sarà anche il balletto dall'opera di Parigi nella serie Palace dal 13 al 18 ma sapete che ogni sede ha giorni orari diversi e il nuovo direttore presenta le sue coreografie, pensate che si chiama Mill Pie per forza deve occuparsi di ballo e anche dei suoi maestri Robbins e Balanchine mentre l'opera Dalmette presenta Hotel dal 14 e ci sono riferimenti alla California anche nel film Hotel Transylvania che è Transylvania 2 quindi riprende questa fantasia familiare, animazione e la voce di Adam Sandler è anche in termini di responsabilità di altri aspetti e penso che nonostante l'orario alle 8 di sera sia dato alle famiglie anche la proiezione del film Back to the Future per il trentesimo anniversario con musica dal vivo anche nuova composta apposta e questo è presentato da Wazo, Western Australia Symphony Orchestra, al Riverside il 13 e 14 e con questo io vi saluto e vi auguro buon divertimento, ci risentiremo prossimamente.